Come ha fatto lui a costruire un posto che non c'era? Aspetta, sei sicuro che è stato costruito adesso? Sì, non c'era, ora ve lo faccio vedere Ma sei sicuro che appartiene a questo, Rabitore? Perché se hai presente da quando sei fatto avanti questo Gli altri stanno tutti zitti Potrebbe anche essere una struttura, un nido dell'amore distrecato con qualche animale No, eh, io non ho fatto niente Di Alex con uno scarafaggio Di Alex con un topo Di Alex con un pisello Di Alex con un rabitore Di Alex con un'altra storia lì da lontano E allora hanno detto Alex No, Giorgio, è la nostra ora, è la nostra ora E quindi a un certo punto E quello si avvicinava con il coltello in mano E allora abbracciati tra i nanti, piangenti No, Alex, no, Alex, difendi, difendi Dai zitto, i morti non parlano Vedi, all'Alex spiace Si sono baciati E poi sono stati accoltellati Ma alla fine finale, vogliamo sapere il finale tragico Eh, te l'ho letto Si sono baciati e sono morti E va a tenersi